L'hanno chiamata Cuore Aperto e l'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Chieti e dalla Procura del Capoluogo su un giro di corruzione alla base di forniture di protesi cardiache e altri dispositivi medicali da parte dell'ASL di Chieti per conto del polo di cardiochirurgia. Ai domiciliari sono finite quattro persone, due imprenditori che operano nella distribuzione di apparati medicali, un agente di commercio e il primario della cardiochirurgia dell'ospedale di Chieti, il professor Gabriele Di Gianmarco che era stato già interdetto dalla professione nell'ambito di un'altra inchiesta. Per due medici, uno di Padova e l'altro sempre del reparto di cardiochirurgia di Chieti, è stato emesso invece un provvedimento di interdizione per 12 mesi. Le accuse a vario titolo vanno dalla corruzione alla turbativa d'asta, dal falso fino all'omicidio colposo. Le indagini della Guardia di Finanza di Chieti ruotano proprio attorno alla figura del primario di cardiochirurgia che secondo gli inquirenti avrebbe pilotato gli acquisti in cambio di favori. Per questo sotto la lente di ingrandimento degli investigatori c'è anche l'inerzia della governance dell'asle di Chieti che dal 2009 al 2019 non avrebbe mai espletato alcun bando di gara pubblica per l'acquisto di dispositivi medici per l'unità operativa complessa. Solo nel 2019 infatti è stata predisposta ed autorizzata la procedura per la gara del valore di oltre 3 milioni nel corso della quale sono state ulteriormente accertate condotte illecite da parte dello stesso primario. Secondo le fiamme gialle c'è stato un consumo anomalo e spropositato di protesi cardiache e altri dispositivi medici che venivano approvvigionati dall'asle a prezzi più elevati rispetto al mercato e che spesso venivano lasciati scadere o sperperati. Per consolidare il quadro probatorio, fanno sapere gli inquirenti, è stata necessaria una complessa disamina contabile amministrativa presso l'asle con il contributo fattivo dell'attuare direttore generale che ha posto in evidenza come le protesi cardiache oggetto di indagine non solo sono risultati il dispositivo più utilizzato tra il 2012 e il 2019 ma anche quello più generoso per l'azienda pubblica per un importo superiore al milione e mezzo di euro. La finanza e la procura sospettano che le contropartite delle forniture siano rappresentate dall'acquisto e dalla posina opera della pavimentazione in parchè di tutta l'area, circa 200 metri quadri, dello studio ospedaliero ad uso esclusivo di Di Gianmarco, dall'uso e dall'allestimento dell'annesso bagno per un valore di 14 mila euro oltre a diversi viaggi e soggiorni a Cuba e al pagamento di numerosi incontri conviviali rinomati i ristoranti della riviera adriatica. Un ulteriore filone investigativo vede coinvolto il primario del reparto di cardiochirurgia e riguarda l'acquisto con procedura d'urgenza per 95 mila euro di una macchina per l'assistenza ventricolare denominata Earthmate 3, sebbene il reparto disponesse di altri due apparati similari. L'acquisto del device è stato giustificato dalla necessità ed urgenza di un intervento su un paziente il cui quadro clinico sarebbe stato talmente compromesso da non poter prevedere altra soluzione. Il paziente è poi deceduto alcuni giorni dopo l'intervento. In realtà, secondo quanto ricostruito dalle indagini, il paziente non solo non era in condizioni di gravità tali da dover essere sottoposto a simile intervento, ma risultava piuttosto candidabile ad una operazione di trapianto presso un centro specializzato. La procura definisce un patto corruttivo consolidato nel tempo, quello che avrebbe stretto per anni la cardiochirurgia di Chieti. Tutti i soggetti coinvolti, dicono gli inquirenti, ne hanno illeciti vantaggi a spese della collettività ed in danno del sistema sanitario nazionale.